Ciao amici amici, sono David Cortese e questo è il mio sito web www.david-cortese.com Nel video vi parlerò del buzz, è un tema importante In elettronica, un buzz è un sistema di comunicazione che trasferisce i dati tra i componenti in un computo o tra i computi È consistente di un set di connexioni fisiche, come i fili o le fibre optiche, che possono essere partiti da molti componenti hardware per comunicare con l'altro Il buzz è un passaggio comune per i dati, i segnali di controllo e il potere Types di buzz Il buzz è trasferito i dati tra i dati, la memoria e gli altri periferali Caratteristiche Il width del buzz, il numero di biti che può portare simultaneamente, direttamente affetta il risultato di trasferimento del sistema Il width è un 8 bit, 16 bit, 32 bit e 64 bit Il buzz può portare il risultato di risultato Il risultato di risultato di risultato di risultato Caratteristiche Sì, il width del buzz di risultato di risultato di risultato di risultato persino al numero di risultato di risultato Il sistema può riferirlo Per esempio, una 32 bit addres può riferirlo a 4 gigabit di risultato Il nodo del buzz Il risultato di QTS Inizia il segnale controllo dalla CPU a altre componenti di QTS Questi segnali coordinano e gestiono le varie operazioni del computer Caratteristiche Il ruolo di QTS Prima di QTS Inizia le linee diverse per funcione, come siano rilevati, siano siano intero e siano 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 La base di sistema combina le funcioni dei dati, addresa e le basi di controllo. È il passaggio principale per il trasferimento di data e i segnali di controllo in un computer. Caratteristiche, le basi di sistema sono tipicamente caratterizzate dal loro data width, la speed di clock, e i tipi di operazioni che supportano. L'espansione base, Parpose, connetta i dispositivi periferali alla motherboard e permettono per l'espansione delle capacità di sistema. Type, PCI, Peripheral Component Interconnect, standard per connessare periferali select network cards, sound cards, etc. PCI Express, an advanced version of PCI with faster data transfer rates. AGP, Accelerated Graphic port, specifically designed for graphic cards. USB universal serial bus used for connecting external devices like keyboards, mice and storage devices. internal bus. Parpose, connects internal components of the computer, such as the CPU, memory and internal storage. example, front side bus, FSB, back side bus, BSB, memory bus. Caratteristiche, width. The number of bits a bus can carry at one time. Wider buses can transfer more data per cycle. Speed, measured in Hertz, it determines how many data transfers can occur per second. Speed, higher speeds result in faster data transfer rates. Bandwidth, the amount of data can be transferred over the bus in a given amount of time. It is a combination of bus width and speed. Topology, the physical layout of the bus system, such as linear, ring or star configurations. Latency, the time it takes for data to travel from the source to the destination across the bus. Operating mechanisms. Synchronous bus. Operates in sync with a clock signal. All data transfers occur at regular intervals, synchronized with the clock pulses. Pros, simplicity in design and predictable timing. Cons, limited by the clock speed, which may cause issues at higher speeds. Asynchronous bus. Operates without a central clock. Data transfers occur through and shaking protocols which coordinate when data can be sent and received. Pros, can handle varying data transfer rates and is more flexible. Cons, more complex control mechanisms and potential delays due to handshaking. Multiplexed bus. Uses the same lines for multiple types of signals, such as data and address signals. Pros, reduces the number of physical lines needed. Cons, more complex timing and control requirements. Serial bus. Transfers data one bit at a time over a single wire or a pair of wires. Pros, requires fewer physical connections and is suitable for long distance communication. Cons, generally slower than parallel buses for the same data with. Parallel bus. Transfers multiple bits simultaneously over multiple wires. Pros, faster data transfer for wide data paths. Cons, susceptible to signal degradation and crosstalk over long distances. Conclusion. Buses are crucial components in electronic system. Enabling communication between various parts of a computer. Understanding the types, characteristics and operating mechanisms of buses is essential for designing efficient and high-performance computing systems. So, this is my website. You can find a lot of interesting things. So, you can download these documents. And you can continue your studies, your career. So, thank you for watching. See you next time. Bye bye.